Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPL dove per lavori si segnalano un chilometro di coda tra Empoli e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze, rallentamenti tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est in direzione Livorno. Per questi lavori è chiusa l'entrata di Empoli Est in direzione Firenze. In A12 un chilometro di coda a tratti tra Sarzana e Massa in direzione Rosignano. Spostandoci in A1 in direzione Roma fino alle 19, tratto chiuso per lavori tra Pian del Voglio e Aglio. Stanotte in orario 22.6 per lavori di ripristino dei giunti di dilatazione è chiuso il ramo di allacciamento con la 11 provenendo da Bologna in direzione Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!